Ilari Blasi aveva annunciato tutto già mesi fa all'Isola dei Famosi, eppure non se n'è accorto nessuno, il momento sfuggito a tutti confermava il divorzio con Totti. Ilari Blasi letto quotidiano.it Vacanze in Tanzania, per allontanarsi dal gossip inevitabile per la fine di una storia che aveva fatto sognare un po' tutti. Ilari Blasi, dopo 20 anni è tutto finito. Ilari Blasi ha riscosso un successo senza precedenti, infatti i suoi appuntamenti settimanali hanno portato raggiunto percentuali di ascolto davvero eccezionali. Se il merito va diviso per la squadra Chia ha lavorato a fianco a Ilari, il cast ha attirato l'attenzione del pubblico, fornendo ogni settimana con colpi di scena a sorpresa. Con l'amore nell'aria nonostante i trent'anni di differenza tra due dei naufraghi, i fan sono senza parole e osservano Luca Daffray e Carmen Di Pietro. Mentre l'inviato del reality show, parla del suo rapporto con la bella conduttrice, oltre che del programma, dalle tante frecciatine che si sono lanciate a distanza la moglie di Francesco Totti e lo stesso Alvin. Ilari Blasi letto quotidiano.it Una conoscenza che tra i due è di lunga data, ben quasi 24 anni, insomma sarebbero più vicini a considerarsi fratello e sorella, dimostrando di trovarsi tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Ma la vera storia che su cui si spenderanno fiumi di parole è la fine di una coppia che ha fatto provare invidia a tutta Roma. La parola ora è agli avvocati, infatti sembra che l'ex capitano della Roma sia pronto a rinunciare alla maxi villa da 25 vani dell'Eur, e che sia già in procinto di versare un assegno di mantenimento con vari zeri. Ilari Blasi letto quotidiano.it Un chiaro segno che al riparo dai giornali e dai flash dei fotografi, questa incredibile storia si stava logorando nel silenzio delle mura domestiche, anche se lussuose. Ilari Blasi, ci aveva avvertito mesi fa, era già finita con Totti e ricordate il momento dei ringraziamenti all'isola dei famosi? Bene, Alvin ha fatto una particolare uscita che ha incuriosito molti, in realtà, ciò che ha destato maggior curiosità non sono state tanto le parole del famoso inviato quando la reazione che ha avuto Ilari in quella situazione. Già, Alvin ha voluto ringraziare la Blasi di tutto il supporto ricevuto in questi mesi affermando, sei unica, la storica frase che Totti dedicò alla bella conduttrice anni fa. Con quella frase, lei si è subito commossa, e ad oggi sappiamo il perché. Probabilmente la crisi era già iniziata allora e per Ilari è stato impossibile contenere le emozioni. La separazione con negoziazione assistita è una procedura introdotta nel 2014, che consente di separarsi senza andare in tribunale in brevissimo tempo. I rispettivi legali, stabiliscono le regole e una volta raggiunto l'accordo, si arriva all'autorizzazione del pubblico ministero e poi alla ratifica. Aveva ragione Francesco, sei unica, i suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso. Ilari Blasi e Totti io non lo accetto pt.twitter.com barra igl tv voddc, mary, chiocciola goddesoftnai trattino basso, giulai 13, 2022 la negoziazione assistita, fa sì che solo dopo circa 45 giorni la procedura di separazione può dirsi davvero terminata. Insomma se la vacanza in Tanzania dove si è recata Ilari accompagnata dai suoi figli e da una sorella dovesse prolungarsi fino a quella data, al ritorno per la presentatrice dell'isola dei famosi, l'ex capitano della Roma, sarebbe anche il suo ex marito. A tutti gli effetti Con la separazione si interrompe anche la partecipazione alle società, nate a tutte al 90% tra la coppia, con alcune delle quote che appartengono ad alcuni parenti della Blasi. Si tratta della società number 5 SRL e della società sportiva Sporting Club Totti. Quindi una liquidazione a tutti gli effetti di ciò che si è fatto insieme, tranne i figli. Nella parte finale della trasmissione condiviso in un tweet Alvin ricorda come sia una donna unica Ilari Blasi, unica come già le era stato detto dal suo Francesco Totti. Grazie a tutti.